Big Land stiamo arrivando proprio, Cristo. Oh, punti icona, perfetto. Posso fare tre extra memes. Madonna, la devasto dei pezzi qua. Ma anche la devasto dei pezzi. Loli. Dunque... What? Sto cercando di non morire, porta pazienza. Understandable. Ti serve un'invitazione? Serve un collo nuovo. Loli. Ancora due giorni per il Expert Band. Intanto ritorna poi. Loli. Grazie. Grazie mille. Una volta. No, ho dato il 7 per motocross. E non mi sto spingendo. Una volta. Una volta. Aspetti, il 7 per motocross è su questo Summit. Se... Ti stavi a confondere, vedi il mago del Protox MX. 5x. Sanpan, an分鐘. Tio Kanen Oddio ci sarebbe da fare Una cosa molto 4000 IQ Ovvero mettersi a farmare Con la Divo nella speranza che Escano i pezzi Cosmetici Cosicché hai un rimborso Di money a cost to cost Si devo farlo anch'io Dando il cambio dei pezzi Figurati Credo che la mia Divo standard Sia vuota Esatto No la mia Divo standard Ha dei pezzi leggendari a random Capisco No la mia Divoè E non la mia Divo è portata Un'altra cosa è aveva Un'altra cosa ecce crystal Lo synco Sia. Bisogna esatto ok c'è un modo per vedere quanti pezzi mancano cosmetici rip dimmi quando c'è stai così seleziono lo evento quando c'è stai così seleziono l'evento minchia è sempre stato così invitabile questo affare l'addivo me ci trovavo io con nel summit dove si doveva guidare quindi I don't know ha preso all'istante da me zitto da me ho detto non vi parla non vi parla bello sto traffico eh cristo madonna l'autobus ora io vorrei capire una cosa ci sono sempre stati gli autobus che io non me ricordavo prima su sta gara sono random ci sono sempre stati sì che quante volte mi invitavo io no perchè è una cosa devastante ti portano da 500 a 0 in in un autobus quello è vero forse dovevo togliere la campanatura non l'ho modificato un c***o sicuro che non averla è modificata si ho controllato giusto poco fa e non l'ho modificato quella che ho usato nell'ultimo summit era la chiron come ti fa pensare che la mia si è modificata? non lo so io beh il traffico che mi farà spawnare grazie F F comunque interessante il fatto che non stiano riuscendo a tirarmi giù dalla top 1000 ancora la gente non ne la fa non c'hanno sbatti si che brava o sennò non sono convinto di riuscire niente della F2 GT l'hai trovata? no però è una ferrari quindi la voglio dovresti provarla yeah eventualmente tu dici domani quando va qui esatto ci intendiamo è una testezza quando si muore su sta gara onestamente eh? ok credo te vucco e ti è spawnato ho scappato un civile mentre stavo saltando e ho fatto 180 gradi ritrovandomi con le vuote in aria questo ambiente sul terreno sempre bello quando succede in aria sempre bello quando succede in aria oh parafango anteriore ok subito al primo colpo lol parafungo parafungo però c'è il sesso esatto te lo indica ancora come è disponibile il bundle pro raching giusto? metti che ci arrivi a comprattelo no lol da me ancora dice che c'è però mi dice in possesso una super f a me è dato 34002 non so se tu hai quindi tu non hai tutti i perk sul ricco no no io ti permetti non 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 beh io li rimetterò a posto quando c'è il summit domani quindi io evito perché mi ha di premere x 80 anni fino a quando non c'ha ragione pure te cos'è stato sto proxy ah sei tu lol in qualche motivo mi ha fatto un proxy stra già si vede che la potenziale del protoxy con 0 punti sull'essenziale è tipo inesistente lol rip protoxy dei poveri esatto è bello ogni tanto arrivare al 500 quindi con la scelta mh sai cosa non è bello invece guardi già andare a ottobre ancora ma il riscaldamento globale questo è lol blogale blogale wow con questo gioco mi pare di capire che non è friendly con quelli che si mettono offline perché comunque te lo dice quando si collegano questo mi ricorda la volta che ho beccato Manu e Marta che ho beccato in cano che ho beccato da nascosto ancora a Overwatch ben nascosto si ben nascosto si ben nascosto si stavano a nascondere da me quello che Marta non è stata abbastanza curva e si è connessa all'istante quando lo stava su Overwatch per poi toglierci dopo poi questo lavoro ci puoi vedere se qualcuno è online ed ha fatto oppure quando segna offline puoi unirti alla partita lel unirti alla partita se la persona sta in offline magnifico magnifico ehi guai questo è cercarsi i guai ho detto in una maniera più semplice possibile lo sto addio per esperienza quindi porco dio sto traffico e tutti e tutti puoi prendere la mano ma non no no oh ti vedo male ah madonna rip barelli di merda un barelli risate proprio molto uff sta gara fin troppo bene è andata fino a questo momento fin troppo bene grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Orco... Niente. Grazie a tutti. non è il massimo è un autobus in mezzo ai coglioni pure perché qua non può mancare mai campare esatto campare il red passion chiedo scusa mi metto a smontare pure io dei pezzi 4,5,8 speciali mi metto a smontare ma aspetterò che la mettono su qualche summit come requirement così la scontano aspetta che vado a provarlo adesso sono curioso dov'è? 4,5,8 mi manca la 4,8,8 GT3 ricompensa summit partecipa per ottenere questo veicolo esclusivo super same super speed uso di speed che fine ha fatto Cristo? allora test drive la vedo la vedo legnosa sta macchina non giro un cazzo stai provando la stessa auto che ho detto io? la TDF sto provando si a me non sta drifstando il punto è che non gira quello è il problema ok no se giri tutto in una volta drift quello si quindi sta roba una volta che si prende si c'è da sparare dalla campanatura al minimo e tutte quelle cose belle solite sai le cose magnifiche dio porco tu così chiaro mai sei bloccato nel fericamento del summit ah si? molto rip platino 1.174 lel lost recon big oof bel 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 meme ma cazzo ho fatto ad essere primo sulla super fast ancora non l'ho capito lol cioè io faccio mezzo giro questa cosa drifta a morte ma legnosa perché non gira come vorrei io quello intendo legnosa e se gira gira troppo il compenso sto adorando il suono quello è buono mi è arrivato il gab che ha fregato tutti sul drift lol partecipo al light al light summit la coca cola light madonna la 458 tanti di quei colori che puoi scegli ma ron sto riavviando big man no aspetta ok ci sono la minima meme pronto le meme e allora che c'è che cico io e allora io arrivo subito vai anzi ammetti che mentre non ci sono arriva robbo lo invito preventivamente rspeed hai suggeri ah giusto sei proprietario tu k well arrivo subito grazie a tutti Che cazzo? 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 Grazie a tutti. 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 Nice. Labbater. 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 Indeed. Guarda io le 18 mi stacco, vado a farmi le... Ce la faccio tornare indietro? No, l'annullo, l'annullo. No, no. Ne devo fare due consiglio. Ne devo fare due consigliere, poi posso prendermi cosa. Quindi dopo due giri annullerò per forza. Cribbio. 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 E' un'annullo, l'annullo. E' un'annullo. E' un'annullo. E' un'annullo. E' un'annullo. E' un'annullo. ha senso quindi lui fa un mix di statistiche chiaro fuq ferrari esatto no dove sto andando? oh merda il super backflip della morte ho fatto mega f beh ho 16 secondi sull'IA quindi 17 9 6 non mi dico che scendono a 3 perchè rido 5 ok 5 e 7 sta risalendo verinice no 8 9 10 10 12 13 13 Au! Chi è che mi è morto addosso? Una IA Same Oh no, 3000 punti in me Due pezzi blu Due pezzi blu Hell yeah Bravo, comunque Rumble man Roberto, dove cazzo stai? Robert Spierre, dove inizia 7 minuti Roberto da Crema Don Quisquede dei Deficienti No, proprio Dove è andato? Dove è andato? Dove è andato? No, l'ho presa di merda Ancora backflips Tappa saltata L'ho Ho l'IA un po' troppo vicino per i testini No Sì Un secondo e quattro Una IA è morta Carrie è morta Non tagliarmi la strada Beach Non ci provare nemmeno Un secondo e quattro Tappa saltata sto cazzo, è mona. Ancora siamo a martedì vero? lol Can I accelerate time please? I Donuts. 472 mila, perfetto. La ricchezza proprio. Eccolo. Oh cazzo, è vero che si ascoltava di metterle nel copo del party? Lel... No ok Vedete che suggerito possono partecipare Bundle Japan Wheelers? Ma non è vero che c'è Bundle Japan Wheelers Si chiama Bundle Expert Japan Wheelers Però ha senso che si chiamano Japan Wheelers Che sono moto giapponese Tutto Kawasaki Kawasaki ah si Beh Ho farmato anche per questo LOL Quindi scusa non ho riciclato l'immagine devo pensare Dicevete Bundle? Si Perché se lo apri c'è scritto Starter Pack Invece se apri quello di Pro Racing c'è scritto Pack Velocità E' da un po' E' da un po' che sono diventati pesi a Spark Ninja Penso se non si stava dietro No e questo... beh, si C'ha ragione Vediamo a me quale hypercars mancano Oh c'è un'altra in promozione di street racing Cos'è questo? Ma ce l'ho la Chevrolet Camarro Marro Arrrr Oh c'è riuscito a chiedere tutti questi pozzini Lavala 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 S7 Twin Turbo E' la Maserati MC12 E' la madonna che è urbano Quindi fa schifo come hypercar la MC12? Mi stai dicendo questo? L'ho... 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 Perazzo Chiron Carbone Edition Maronna, sta Ferrari sembra anghery as fuck proprio Eccolo Eccolo Ah, te adesso ho detto che sei conosciuto Io Andamo bene Proprio bene Bene Nel parto Nel parto Che notizia Ma come era messa dentro? Mini Countryman All4Racing Guarda, facciamo una cosa Rendiamolo pubblico per mezzo secondo fino a che non entra E poi rimettiamo privato Qua si, però lo vede prima Metti che gli sei glitchato e non può vederlo, che ne so No Questo è bullshit e non lo sai Lo so Lo so? Question mark Sì, troppo l'anghiato almeno la cosa Alla prima Ah, no Salve Nooo Che notizie ma non è la messa più Che notizie ma non è la messa più Che non è la mia Esattamente Esatto Mi aspettai il grande debutto Buon gioio comunque Buon gioio comunque Buon gioio comunque Lui sta col collo distrutto Esatto Non so se ieri il robo è passato quando c'è stata la notizia che mi hanno messo L'internet potenziato Oh, nice Very nice Da mo' che ce l'ha? Perché non ce l'ha mai detto un po' Perché non c'è stata un cazzo Esatto Te lo linko, gam In privato Quando avrò la forza di guardare il fortissimo telefono Robba che devi fare? Siamo veloci visto che sono già le sei Sì Quelle due là Non è che il video da naso non l'ho più preso Quindi super fast time Esatto E l'altra non so quale Qua la metto prima? Vai metti la roba tutto Fatto Fatto Sì Sì Esatto Guarda se non prende con tutto che ho la mega connection io mi incazzo Se non prende Ho detto Questo gioco è capace di non prendere perché ho equipaggiato una colpitissima monster track Vuoi vedere che come un mona io non ho il doppio protox sulla berlinetta con tutto che la dovrei migliorare anche se non serve? Esatto Eeeh vergogna Vergogna I morti Oh attenzione Sarà bello vedervi da dietro Ma perché è di notte che era di giorno sta gara prima? Che cazzo Dove l'hai vista di giorno? L'ho fatta sempre di giorno io sta gara con il summit Senti il tuo gioco ha qualche problema grave Direi di sì Direi di sì Questa qui l'ha sempre fatta di notte io Sempre E io da solo ce l'avevo di giorno Eheheh Abbiamo giocato a un gioco diverso devo supporre Esatto Nooo Nooo Oddio Credevo fosse la curva malefica col guardrail di legno là Questa No questa questa è Eccola E l'ho detto Con tutto che l'ho detto siete un bello shdang Ah pure tu l'hai preso? Riavvio? A questo punto di dire di riavvio Tanto Tanto io ho un punteggio che mi accontenta però è anche rovente No No Perchino il suo tutto Ah Non lo so Dio carai Salutiamo gli sponsor Esatto Vi so che ci seguono Ma con noi Oh c'era una mucca Che è stata travolta Uccisa non lo so perchè sto gioco non Quanto ora li fa despawnare e basta Però Travolta si In realtà li trapassi gli animali per qualcuno Quindi la stravolta Oh Cristo E la curva di merda Guarda io direi tutte le curve di sta Di questo percorso insomma Perchino And they cannot stress this enough Apps Curva di merda incoming Ecco Ce n'era un'altra non ricordo a che punto Oh forse me sta confondendo Ah credo che ti riferisca quella del 68% Yeh Oh Le Non è affatto nice Questa curva invece è molto Molto poesia Questa merda qui Questa merda qui Ah You bitch E mi stai a far fare questa cosa tu Quindi you bitch No you No you No you bro No u No u Ah Addio Bubu Maronna Ecco Sapevo Sta andando fin troppo bene quel segmento Cristo Sta andando fin troppo bene Bevi de meno la mattina Bevi de meno la mattina Dormi de meno semmai Ah ok Era quello Era appunto Era quello Ma invece 67 però Ah no so due So due So due Guarderei il bastardo Io ho preso il primo Due di fila Vabbè Si taglia Si taglia Che vedete una trasmidre Uniform nuove Sei morto? No Ok Eh volevi In confezio è morto il mio collo Tipo Ha craccato? Chi è che il monaco ha messo un albero lì? Che chiudo urlando Mi butto fuori io direttamente così Sì E devi creare casini Perfetto Same 20 secondi Still good Il push Dà un po' di velocità per caso Boh Ci ho provato Due decimi in meno Sto dicendo che sei un pusher? Esatto You discover You found out proprio Out Più 31 secondi Maronna 2 3 secondi Lel Dai Andiamo qua con l'altra Zupa fast Se il gioco dice che ce la fa Ok Verso l'Ag Vegas Ha declinato l'invito? The fuck? Non è vero Ma mi ha detto che l'avete dec... Non è vero manco per il cazzo Vabbè No, fermo dentro un caricamento Ah Io adesso sono finito nel summit Eh selezionatelo Selezionatelo voi No Allora faccio io Allora faccio io Allora faccio io Vediamo se dice ha declinato un'altra volta Beh io lo faccio soffloccare così il gioco Di sicuro Sì Abbiamo creato Cosa è diversa Se non si frizza Se non si frizza Guarda Il master del barbecue di follower Yeah boy Ma come si permettono What? What? Ah Robo l'ha ricammiato il follower Edzi Io ancora Ma non va comunque Eh? Perché mi ha messo la telecamera nel... Nel... Ok C'era L'ho selezionata minimamente Mi ha messo la telecamera nel volante K What? No, sta auto mi sta un po' sul culo effettivamente Non posso divertirmici Allora ecco Allora ecco Mi ha fatto bestemmiare per fare un tempo decente Maronna da lungo Ahahahah Hai mantenuto quanto? 3...380? 390? Non lo so Non lo so Non lo so Come cazzo ho fatto E non mi dispiace nessun po' Minchè il vantaggio che si prende con quella cosa lì In effetti è... Devastante Tutto che riuscire a farla credo sia impossibile Ah! Volutamente Ah... R... Sì R... 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 Il cubo di rubrik Anche Il cubo di Kubrick Stanley Kubrick Nooo Nooo Mi ha fatto lo stesso errore tuo Come ti permetti Esatto Ti stavo dietro No grazie Ti stavo appiccicato dietro Bellman Mi dimentico sempre che non dovrei utilizzare il Brotox Fino a che non è in quinta sta cosa Evb Oh ecco cosa ho sbagliato qui Eh sì Eh... Rob... De quanto stai? De... De roba fettura tipo Un... Qualche... Un momento A 21 Ok Ancora bene 21 a metà gara vuol dire che saranno 40 secondi alla fine però Ehm... Se non moriamo? Come prima Giusto Ah dici per il timer sì Vabbè non ci stavo pensando Sono un mono Io sì Non ci stavo a pensare La rotonda più mudia del mondo Minchia veramente No È proprio a drifthamme sta cosa Effetto Non mi ha inchiaffato ma lo so È il saltino di merda È il bello che non ho toccato manco lo sterzo eh Però A quanto pare Bel meme Bel tè Intensi fies Si vede che non tocco Sta gara da tipo Tre giorni mi sono scordato come farlo Con tutto che ho tirato fuori il tempone della madonna Vabbè Solo tre giorni? Amatevo Esatto Collo puoi piantarla di farmi male per due secondi No Non puoi capire che spettacolo Ieri Rob sveglasse E' completamente paralizzato Che mi è uscito a muovere più in un cazzo Au Prima di finire Mi controlla il vantaggio Imo Che dice dei coni mi dice Questa è rispetto a me 43 No ok allora dobbiamo 43 Oh Soprattutto che sono mega morto Eh purtroppo le hypercar Oh ti sei parcheggiato Lel Ah in questo posto magnifico Penso Ragazzi Prego a zero Prego a zero Questa è una classifica Madonna 34 mila punti E lo so E lo so E lo so Tipo Tipo Lo giapponese Sentì una sorta di tema giapponese Ah si si Adesso è quello standard del primo Si Ci ho fatto Ma nemmeno Nemmeno Uno dei De 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 Primo Il primo C'aveva un po' Polar Rush Aveva tipo l'effetto della scivolata Non lo so Dici Esatto La cosa che mi fa fredda Considerando È di parecchio Qua è da Ovo Quanto da mancherebbe che ha bundle in teoria Te lo dico Fra Qualche Secondo Appena carica Aspetta un secondo Vada Addio La Porsche Tornando a noi Circa 600k. Aia! Minchia! Molto aia! Forse una delle due auto. Forse la berlinetta. Forse. Allora. Si. Si mi ha eser fatto la bella per la berlinetta. Allora. Allora. Vabbiamo se vado la prima per aspettare un secondo. Allora. 1175k. Tu stai a... 1063k. E' fatto 30k. Stai a 36.000, quindi copriresti più o meno 80.000 Eh, porterebbero a 1.150 in quel caso Qualcosa che si può migliorare? Prima non la soltarei, quindi assolutamente no Quello della Touring Car ha fatto qualcosa facendo il glitch Non credo, quella gara è tutta fatta per l'accelerazione Potrebbe prendere qualche cosa in più con la fuga Se riesci a fare i 200 in più, i 150 in più dei punti è arrivato a 5.000 in più Sì ma il problema di quella fuga è che devi gestirti il protox in maniera perfetta No, sai qual è il... non è questione del protox, è questione di arrivarci in tempo lì A quel punto lì, arrivarci il prima possibile Che vuol dire che bisogna fare alla perfezione il tratto corto Nel tratto corto faccio che uso il protox per tutto il primo pezzo Poi nel secondo pezzo non lo uso affatto, dopo il curvone malefico Perché devo ricaricarlo per fare la terza parte E così ho fatto il punteggio buono Olso, mi sembra che ci sia la morte qui Mi sembra pure a me Non capisco per quale ragione Beh, è tutto simpatico Facciamo un applauso a Ubisoft per favore E chiaramente merita E si è tolta la plastichina dell'etichetta del controller Evviva RIP Devo trovare Questo è pure il Questo è il secondo che ha spiegato l'etichetta in realtà Però non l'etichetta in sé Ma la plastichina che la ricopre Praticamente Credo ci abbia messi da solo Non so se ci ha messi assieme Credo di no No? Ho paura di no Vabbè, non so quanto può essere Aspetta, ho visto una Ferrari che ha detto Da me non ci sono Quindi forse ci ha separati Comunque, eh no, è solo Wilson che mi fa il trollone Nuovo saggetta di Wilkinson Ah no, con un'altra cosa Wilkinson a chi? Ma come te qua? Collo malepido Vediamo se c'è qualcuno che è riuscito ad acquistare tutte le auto Del gioco Ok Io sono bloccato in un loading Pure io Io no Magnifico Sì, prova Prova di invita Accettato Oh, yes Avvido in una missione Peraps Però Vorco di Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Capito Ho capito Tutto Grazie mille